So che vi piace la carne. A lui piace mangiare fuori. Gli piacciono i gelati. A volte ci piace passeggiare. A me piace tanto nuotare. Mi piace la cucina messicana. Ci piace andare allo stadio. Mi piace guidare la macchina. Mi piacciono le macchine. A loro piacciono i caffè. A voi piacciono i cani. Ti piace molto viaggiare. A lei piace cenare in casa. Le piacciono molto le camicie. A voi piacciono i cani. Ieri ho comprato un quaderno. Ai bambini piace il gelato. I tuoi amici ti hanno cercato. Hai dei cani o dei gatti? Tu non hai niente da fare. quest'anno mi alleno di più. Lui ha detto di non uscire. Ho preso l'influenza. Hai visto il mio nuovo zaino? Gli alberi non hanno foglie. Se vai a Roma, fai le foto. Non ho fatto la spesa. Non ho ancora mangiato. Non hai deciso cosa fare. Vado a comprare un vestito. Vieni a casa o rimani qui? Devi dirlo ai tuoi amici. L'anno prossimo andiamo via. Il cane ha abbagliato spesso. Se ho caldo, esco di casa. I gatti hanno bevuto il latte. I gatti hanno bevuto il latte. Io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Io ero. Tu eri. Lui, lei era. Noi eravamo. Voi eravate. Loro erano. Io sono stato. Tu sei stato. Lui, lei è stato. Noi siamo stati. Voi siete stati. Loro sono stati. Io ho. Tu hai. Lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Noi avevano. Io avevo. Tu avevi. Lui, lei aveva. Noi avevamo. Voi avevate. Loro avevano. Noi avevano. Io ho avuto. Tu hai avuto. Lui, lei ha avuto. Noi abbiamo avuto. Voi avete avuto. Loro hanno avuto. io faccio tu fai lui lei fa noi facciamo voi fate loro fanno io facevo tu facevi lui lei faceva noi facevamo voi facevate loro facevano io ho fatto tu hai fatto lui lei ha fatto noi abbiamo fatto voi avete fatto loro hanno fatto io vado tu vai lui lei va noi andiamo voi andate loro vanno io andavo tu andavi lui lei andava noi andavamo voi andavate loro andavano io sono andato tu sei andato lui lei è andato noi siamo andati voi siete andati loro sono andati grande e piccolo l'elefante è grande l'elefante è grande il topo è piccolo il topo è piccolo scuro e chiaro la notte è scura la notte è scura il giorno è chiaro il giorno è chiaro vecchio e giovane il nonno è vecchio il nonno è vecchio il nipote è giovane il nipote è giovane il nipote è giovane bello e brutto la farfalla è bella la farfalla è bella il ragno è brutto il ragno è brutto grasso e magro quel gatto è grasso quel gatto è grasso mio nipote è magro mio nipote è magro caro e economico l'auto è cara l'auto è cara il libro è economico il libro è economico coincidere coinciso condividere condiviso condiviso dividere diviso esplodere esploso evadere evaso implodere imploso perdere perdere perso arrendersi arreso ascendere asceso dipendere dipeso discendere ? disceso offendere offeso pretendere preteso accendere acceso deciso Scendere, sceso, spendere, speso, tendere, teso, chiedere, chiesto, persuadere, persuaso, chiudere, chiuso, rinchiudere, rinchiuso, crescere, cresciuto, conoscere, conosciuto, concedere, concesso, succedere, successo, mettere, messo, permettere, permesso, premettere, accogliere, accolto, raccogliere, raccolto, sciogliere, sciolto, dire, detto, disdire, disdetto, maledire, maledetto, predire, predetto, vincere, vinto, vivere, vissuto, nascondere, nascosto, sconfiggere, sconfitto, leggere, letto, spegnere, spento, soddisfare, soddisfatto. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. suono, suonare, grido, gridare, bacio, baciare, ballo, ballare, odore, odorare, gioco, giocare, guida, guidare, cucina, cucinare, amore, amare, pensiero, pensare, 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 studiare, invito, invitare, viaggio, viaggiare, sbaglio, sbagliare, incontro, incontrare, 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 vedere, lavaggio, lavare, salto, saltare, puntura, pungere, valore, valere, valere, sonno, dormire. non ho studiato perché stavo male. Non è solo bella, è anche ricca. la stanza è piccola, ma almeno è pulita. Sta per piovere, infatti è nuvoloso. Tra l'altro non sono neppure stato avvertito. Questo film è così noioso. Parla chiaro così che lui capisca. Non è divertente, però è necessario. prendo una bibita invece del caffè. Sono invitati tutti tranne Claudia. Non posso venire prima di domani sera. A quei tempi andavamo in giro insieme. Ho visto quel film solamente una volta. ci siamo visti in piazza qualche mese fa. E allora che cosa facciamo? È davvero tardi, adesso me ne vado. Mentre lei dormiva, ho cucinato la cena. A questo punto non so più cosa fare. Alla fine, non abbiamo mangiato nulla. Prima studiamo e poi usciamo. Sono arrivato giovedì, cioè ieri. Io sono alto e biondo. Noi siamo alti e biondi. Sei un professore? Siete dei professori? Lui viene dal paese. Loro vengono dai paesi. La lavatrice è vecchia. Le lavatrici sono vecchie. Il lampadario è acceso. I lampadari sono accesi. Mio cugino è basso. I miei cugini sono bassi. Lei è felicissima. Lei è felicissima. Loro sono felicissime. È comoda la polterona? Sono comode le polterone? La nonna è in Svezia. Le nonne sono in Svezia. Io sono di Napoli e tu? Noi siamo di Napoli e voi? La pizza è buona. Le pizze sono buone. Questo cane è nero. Questi cani sono neri. La macchina è veloce. Le macchine sono veloci. Il mondo è unico. I mondi sono unici. L'acqua è un liquido. Le acque sono dei liquidi. Sono stato in spiaggia. Siamo stati in spiaggia. Quella casa è vecchia. Quelle case sono vecchie. Il nostro amico è qui. I nostri amici sono qui. Mentre lei stava leggendo una rivista, io parlavo al telefono. Che cosa stavi facendo tu ieri quando sono arrivato? Penso che la signora stesse bevendo un caffè quando ho chiamato. Mentre noi stavamo uscendo, ha squillato il telefono. Penso che loro stessero studiando quando sei rientrato. Di solito lui andava in Italia durante l'estate. Prima di cena noi non avevamo molta fame. Durante la partenza stavo ascoltando la musica con la radio. non immaginavo che il lavoro diventasse così difficile. Mentre finivo di studiare, ho iniziato a mangiare la cena. Mi hanno rubato i soldi mentre stavo camminando per strada. Quando è arrivato il treno, noi stavamo bevendo un caffè. A presto che si vittura tramite i soldi, non sono raiato di teni, non sono raiato di chiuderemmo. Ma fatta è naturale. Non sono raiato di più,